In attesa dei vincitori della sezione teatro-scuola mentale. Allora, gli istituti vincitori della sezione C sono sempre in ordine alfabetico per l'unità. Silenzio. La scuola elementare Codignola. Bravissimi, io non ci speravo, sono stato io. Sono che siete exeguoci oppure un altro, battete le mani. Grazie. Grazie. E la sezione C, nella scuola? No, è un altro. E le mutare? Questo non è exeguo. Vabbè, battete le mani. Berta Pelle di 90 vicini. Grazie. 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 Grazie.